Eccoci di nuovo amici e guardoni degli scacchi, ben ritrovati con le ultime due partite della finalissima del torneo di Londra del 1851, il match bellissimo, clamoroso, pirotecnico, basta aggettivi sufficienti, tra Adolf Andersen e Marmaduke Weevil. Ci siamo lasciati nello scorso video con un punteggio di 3-1 per Andersen, gli basta l'ultimo punticino per confermarsi, per essere incoronato, laureato, campione di questo bellissimo torneo che si svolse, questo non ve l'ho detto, in concomitanza con l'esposizione universale di Londra. Quindi vedremo Andersen in questa partita col coltello tra i denti che cerca di accapararsi l'ultimo punto necessario per la vittoria e chiudere una bellissima performance. Vediamo un po' qui Weevil con i pezzi bianchi che difenderà a spada tratta il proprio onore di gentleman inglese contro il mangia-krautti del continente, vediamo un po' com'è andata. Di nuovo C4, Weevil amava C4, l'abbiamo visto aprire, credo sempre con C4. Sì, credo sempre con C4. E Andersen, qui lo vediamo rispondere, F5, difesa olandese un'altra volta. Vediamo un po'. F4! Nooo, anche qui strutture pedonali lunari, marziane, di urano, di alfa centauri. F4, pazzesco. L'apertura cornuta. Cavallo F6 di Andersen, cavallo F3 di Weevil, E6, E3. Alfiere E7, alfiere E2, a rocco corto, a rocco corto. Ok. D6, piccolo centro di Andersen, approccio un po' prudente. Weevil risponde con B3, prepara il fianchettaus, il fianchettaus dell'alfiere. Cavallo E4 di Andersen, Andersen era un piantatore di cavalli, non nel senso che piantava i cavalli nel campo, ma che piantava i cavalli nel centro scacchiera o nelle postazioni che davano, come dire, noi all'avversario. A3 di Weevil. L'abbiamo visto giocare una miriade di volte queste mossettine laterali, Weevil. Alfiere F6. Andersen pianta il suo alfiere nel costato di Weevil. Qui unica sarà torre A2, suppongo. Torre A2 di Weevil. A5, avanti tutta, macchina avanti. D3, caccia il cavallo, il cavallo se ne va in C5. Cavallo BD2. Sviluppa l'equino. Cavallo C6. D4 di Weevil, avanza lentamente con questa muraglia blob. Con questa marea, questo blob di pedoni. Il cavallo torre in E4. Donna C2. D5, Andersen mette un fermino al blob di pedoni di Weevil. Cavallo E5, altro cavallo centrale. Guardate che struttura curiosa. I due cavalli, questa barriera corallina di pedoni. Mamma mia, io già non ci capisco più nulla. Alfiere D7. Andersen sviluppa l'ultimo pezzo leggero. cavallo C per D5. C per D5, rottura. E per D5. Cambio, cambio. Ok. Alfiere B5 di Weevil. Inchioda il cavallo sulla donna di Andersen. Weevil, tra l'altro, gode della colonna aperta. Alfiere E7. Sposta l'alfiere su una diagonale più attiva, visto che qui sbatteva. Sbatteva contro il muro. C per E4. F per E4. Cioè C, scusate, non C. Cavallo per E4. Cavallo per E4. F per E4. Alfiere D2. Vedete che Weevil ha un gioco molto più manovriero. Molto più manovriero di Andersen. Anche quando nelle partite in cui ha vinto. Ha vinto sempre di manovre. Manovre energiche, ma manovra. Lui è uno a cui piace avanzare i pedoni pochino pochino per volta. Guadagnare spazio. Magari avere due buoni alfieri. O un cavallo ben avanzato, come avevamo visto nella bella partita. La partita 3 del match. Quindi alfiere D2. Adagio. Torre F6 di Andersen. Che non ce la fa più. Non la tiene più. Vuole attaccare. Lui vuole attaccare assolutamente. Torre C1. Raddoppio sulla colonna aperta. Torre G6. Eccolo qui. Il nostro Adolf. Ecco. Gli attacchi di Andersen a volte sono pirotecnici. Altre volte quando non riescono sono un po' pietosi. Povero Andersen. Benissimo. Torre G6. Donna D1. Prefere a questo tipo di raddoppio. Perché in effetti quando raddoppiate, no? Che avete la donna in testa. E' inutile perché la donna, cioè, la donna deve stare dietro nelle batterie. Di solito, eh. Di solito. Donna C8. Si schioda. Donna E1. Prepara magari un trasferimento da queste parti. Non lo so. Vediamo. Cavallo A7 attacca l'alfiere. Alfiere E2. Cavallo C6 ritorna lì. H3 di Weevil. Eccolo le sue spintine pedonali. Donna per H3. Eh, spintina pedonale è un corno. Weevil non ha visto che perdeva un pedone. Perché questo è inchiodato. Per via della torre. Ah, Weevil, Weevil. Certo che se giochi bene, poi fai queste sviste. Andersen ne approfitta. Donna F2. Alfiere H4. Uh, qui la faccenda si complica, eh. Qui, in questo momento, Andersen sta già assaporando la gloria della vittoria del torneo. Era si sposta, era F1. Perché se presa, presa. E infatti quello che succede, presa, presa. Hm. Non me la facevo così. Io mi immaginavo un Andersen che giocava questa, magari. Non era meglio. Scusate un attimo, eh. Non è meglio fare un donna H1 scacco? Donna H1. Donna G1. Eh no, però si cambia poi lo stesso. Donna per G e basta. Ok. Niente da fare. Benissimo. Torniamo a noi. Alfiere per F2. G per G per H3. Alfiere H4. Torna indietro Andersen. Alfiere G4. Si sposta a Re. Ah, togliamo pure la barra che non ci interessa. A noi piace commentare così, analizzare così alla buona. Torre C5. Weevil tira sulla torre in una bella posizione attiva. Minaccia il pedone debole arretrato in D. Fa pressione su questo pedone. E anche, se volete, inchioda il cavallo. Perché se il cavallo si sposta da qualche... Non certo lì, si sposta da qualche parte. Anche questo pedone può cadere. Posizionalmente Weevil un po' meglio qua, eh. Torre D8. Difende. B4. Spacchiamo tutto. Alfiere E7 attacca la torre. La torre si sposta. A per B. A per B. Alfiere D6. Andersen è un alfiere che gioca un po' male. Perché sbatte. B5. Adesso non... Sì, non sbatte più tanto, ma comunque non ha tante case questo alfiere. B5 attacca il cavallo. Cavallo si sposta. Alfiere E1. Magari preparando manovre tipo questa. Torre H6. La impedisce. Tiene questa casa. La casa H4. Impedisce l'entrata dell'alfiere in H4. Torre AC2. Raddoppio. G6. Sacrificio di qualità, signori. Torre per C7. Alfiere per C7. Torre per C7. Ha dato la qualità a Weevil. Ha dato la qualità. Resta... La situazione qui è due torri e cavallo per Andersen. Torre e due alfieri per Weevil. Però Weevil ha anche un pedone in più, se dico bene. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. Pedoni pari. Solo qualità. Cadrà magari anche questo pedone, però. Cavallo F5. Re E2. Viene su con Re. Torre A8. Prepara l'ingresso della torre. Un po' ardito il sacrificio di qualità di Weevil. Alfiere B4. Scacco. Re E8. Torre per B7. Torre A2. Scacco. Para di alfiere. Cavallo D6 attacca la torre. Torre B8. Scacco. Il Re torna su. Re D1. Schioda l'alfiere. Torre B2. Tiene sott'occhio questo pedone passato. Sacrificio di qualità per farsi il pedone passato, praticamente. Ha voluto rischiare Weevil, ha voluto rischiare. D'altra parte, in effetti, gioca con i pezzi bianchi e sulla soglia della sconfitta vuole provarci a tutti i costi. Poi siamo nel periodo romantico, quindi si esige dei giocatori una certa avventurosità. Tra l'altro non ho fatto caso, ma Andersen ha questo attore che non gioca. Che in effetti, quantitativamente c'è del vantaggio materiale di Andersen, però questo attore è completamente fuori gioco. Quindi, di fatto, siamo due alfiere e una torre contro torre e cavallo. Pedone passato. E vedete, è tutto un altro stile rispetto ad Andersen. Incarnano due stili diversi Weevil e Andersen. L'alfiere viene su per scortare il pedone. G5. G5 l'avrei fatto anch'io. Si apre un po' d'aria per la torre. Alfiere D8. Scacco. Il Re si sposta. Alfiere per G5. Guadagni un altro pedone. Torre G6. Finalmente fa uscire la torre che era stata sepolta viva. Alfiere H5. Ah, ridà la qualità qua, però. Presa del pedone. Presa. Presa. Ah. F5 di Weevil. F5 di Marmaduke Weevil. E Andersen abbandona. Io da Mona quale sono avrei preso. Invece lui fa F5. Perché? Ah, certo. Perché la torre è inchiodata. Ah, vedete. Se presa è presa, si resta con un pezzo leggero a testa. Ma così guadagna un pezzo. Weevil guadagna un pezzo grande. Perché qui la torre non può muoversi, perché è inchiodato dall'alfiere su Re. Bello. Grande Weevil. Weevil sentiva l'odore del gioco posizionale. Sentiva l'odore del gioco posizionale. Siamo sul 3 a 2. Si aprono prospettive di rimonta per Weevil. Si aprono prospettive di rimonta. Andiamo a vedere la partita successiva. Eccoci signori. Andersen con i pezzi bianchi. Abbiamo visto che lui ha sempre aperto con E4. A cui Weevil è risposto con la siciliana. Abbiamo visto Weevil con i bianchi giocare, credo sempre, 1-C4. Una volta siamo entrati in una tarashe. Le altre volte in bizzarre, aliene, oscure, varianti della difesa olandese. La siciliana ha visto, se ricordo bene, due vittorie di Andersen, ma una anche di Weevil. Quindi è ancora aperta la questione. Andersen ha perso nella partita prima l'occasione di chiudere il match. Il match è sul 3 a 2. Se qui vince Weevil, va sul 3 a 3. E tutto è da rifare. E tutto è da rifare. Andersen può chiuderlo. Vediamo come va. E4, C5, infatti. Alfiere C4, ritorniamo alle origini. Come nella prima partita. Vi ricordate, la prima partita era andata proprio così. A6, uguale. Forse l'ordine di mosso è un tantino diverso. Prima Weevil, nella prima partita, aveva giocato prima E6. O forse il cavallo. Comunque, lo schema è quello. E qua Andersen gioca A4, giustamente, per prevenire B5. Che avrebbe molestato tantissimo l'alfiere. E' guadagnato un sacco di spazio sul lato di Dawn. Cavallo C6 di Weevil. Cavallo C3 di Andersen. Probabilmente avrebbe un'altra siciliana chiusa. E6, come al solito. D3 siciliana chiusa. G6. Novità. Novità di Weevil. Non l'aveva mai giocato il fianchetto. G6. Contro il Grand Prix, credo che vada bene. Se il bianco gioca siciliana chiusa, poi fa un genere Grand Prix, si può giocare, credo, questo tipo di struttura pedonale. Ma non vorrei sbagliarmi. Cavallo G in E2. Bella. Questa si capisce perché. Non fa cavallo F3, ma fa cavallo E2 per lasciarsi la libertà di fare F4. Cavallo G E2. Alfiere G7 in fianchetto. Perfetto. Alfiere G7. Arrocco corto di Adolf Andersen. Cavallo G E7 di Weevil. Magari per preparare questa spinta. F4 di Andersen. Arrocco corto di Weevil. Alfiere D2. Sviluppo l'ultimo pezzo leggero. D5, infatti. Spinta centrale di Weevil. Andersen ritira l'alfiere. Tesa. E la situazione è molto... L'ha sentita la tensione? L'ha sentita l'elettricità nella... Chissà come doveva essere essere... Trovarsi, cacchio, nella sala da gioco, vedersi due qua. Cioè, immaginate di essere Londra. A 1851 c'è l'Expo. Voi siete dei borghesi londinesi con un monocolo, un sigaro in bocca e un cilindro in testa. E andate nella sala da gioco. Vedete questi gentiluomini che giocano a scacchi su queste belle poltrone. Come nella foto, no? Con questi belli scacchi tutti... Tutti istoriati. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Che sogno. Un sogno. Alfiere B3. Cavallo D4. Centralizza il cavallo. Io cambierei, credo, però... Sì, anche Andersen era dello stesso avviso. Cavallo per D4. Alfiere per D4 scacco. Re H1. Alfiere D7. Qui... Weevil sta mettendo le corde Andersen. Vediamo cosa dice il motore. No. Ancora vantaggio bianco. Però occhio... Il nero non sembra star male. Per niente. Per niente. Bene, il match Andersen-Morphy... Andersen aveva un po'... Qualcuno dice che gli fossero ceduti i nervi. Io non credo fosse un tipo emotivo. Io credo che fosse semplicemente uno che giocava per divertirsi. E che, boh, nel senso, magari non giocava sempre al 100% perché non era un fanatico del gioco. A volte gli veniva di giocare molto bene, altre volte giocava decorosamente, ecco. Non è un... non è stato mai un fanatico, un assassino degli scacchi. Morphy è diventato matto, no? Sapete che ha finito la sua vita con problemi mentali. Andersen no. Andersen faceva il professore e era contento di fare la sua vita da medio-borghese. Tra l'altro è divertente perché era una persona, a quanto si dice, molto posata, elegante, educata, a modo... Era proprio un gentiluomo, Andersen. Però quando giocava si trasformava in un attaccante sanguinario. Alfiere D7 di Weevil sviluppa l'ultimo pezzo leggero. E per D5. Andersen vuole aprire il centro e aprire il gioco. No, Weevil, che cacchio fai? Ma sei deficiente! Ma come alfiere per C3? Ma avete visto? Eh, ma no! Guardiamo un attimo, scusate, eh. La valutazione e le linee. Allora, E per D5. Dunque, qua il motore dà E per D5 come unica mossa buona. Alfiere per C3. Più 0,4. Il motore la valuta solo come più 0,4 per il bianco, ma secondo me è un grave errore posizionale questo. Andersen riprende di alfiere, adesso buonanotte, buonanotte. Ah, Weevil, no! E per D5. Ah, magari pensava di poter chiudere la diagonale. Ok. Vediamo se ci riesce, però, eh. Ecco, infatti. Vedete, vedete che intelligenza Andersen qua. Per evitare che l'alfiere finisse in cantina, lo tira fuori prima che la cantina si chiuda. Così tiene qua, inchioda il cavallo sulla donna, bellissimo. Alfiere E6, difende questo pedoncino, ma c'è da stare attenti alle case scure, qua, sono un colabrodo. Qui, donna E1, donna H4, arriva al matto, eh. F5 di Andersen, attenzione. Bella. Alfiere per F5, e poi cosa arriva? Buah, grande Adolf. Torre per F5. G per F5, apre l'arrocco come una scatoletta di tonno, come diceva qualcuno del Parlamento. donna H5, buonanotte, Weevil. Donna D6, eh, è finita. Donna H6. Scusate, io avrei fatto così, con scacco. No, non andava bene, perché io ho visto come... Donna G4, scacco e poi matto. Scusate, donna G5, scacco e poi matto, ma su donna G5 para di cavallo. E il bianco perde il vantaggio, qua. Invece, a donna D6, che attacca l'alfiere, Andersen risponde con la più giusta, donna H6. Adesso sì, auguri a parare al matto. Donna per F6, donna per F6. Weevil abbandona. Andersen, campione a Londra, 1851. Bellissimo! Bellissimo! Qui Weevil ha perso la partita, secondo me. Anche se il motore... Ma il motore è un cretino. Weevil ha perso la partita qua. Qua! 13 alfiere per C3. Qua ha perso la partita, Weevil. Il motore dirà che si può tenere la posizione se ti metti a testa in giù e... E non lo so. Per un essere umano questa non è una mossa da giocare. Per il 99% degli esseri umani. E infatti, cosa succede? Il matto arriva proprio sulla diagonale lasciata orfana dall'alfiere. Bello! 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 Bellissimo! Signori e signori, io sono molto contento di aver ripercorso con voi questo match clamoroso che mi ero sempre domandato, mi sono sempre domandato come fosse andato nei dettagli questo match finale di questo super torneo. lo abbiamo visto insieme. Sapete che il mio commento non è scientifico. Io la guardo con voi e mi diverto. Ecco, spero che vi divertiate anche voi. Grazie, mettete like, iscrivetevi al canale. Alla prossima! O, naturalmente, se avete richieste di partite ignote o cose strane, fatemela nei commenti. A presto cari, ciao! Ciao!